Musica Ciao a tutti ragazzi di TheFace Come avete visto la intro epicità Pura ragazzi Tu sull'aereo Non farò un cazzo Ben rinnega Scusami L'ha fatta lui ragazzi Non si ricorda chi ha messo dove Aspetta ha aggiunto i nomi Difficio aggiungere i nomi Sì c'è stato due giorni Perché sennò si vede che i nomi si muovono Così non criticate Allora ci pensiamo noi È una merda Comunque stiamo giocando su Xbox 360 Qua sta giocando tipo Sto giocando io Io mi rifiuto completamente di giocare Allora io e Taylor abbiamo provato Abbiamo provato a giocare alla beta di Battlefield 4 Sull Xbox 360 Penso che in totale abbiamo accogliato quanti secondi di gioco Penso al massimo 30 secondi Perché dopo mi sono a tutti i coglioni Sommati I miei 15 più i suoi 15 Allora questa praticamente dovrebbe essere Poi meno alla decima partita In totale ha un FPS su console Quindi vuoi dimmi che Tu vuoi dimmi che non hai mai toccato No non ho mai toccato un joystick A meno che per giocare alla press Per fortuna Quindi praticamente Ma guarda che imbecillo che è quello lì Sì no poi ho trovato gli imbecilli Allora io sono scarso Ma sono scarso anche gli altri Capito? Eh si vede cazzo Sì che poi Tiburna fa anche Lo sborone dice No ma mi gioco con la satellitare 800 millisecondi di ping Non è un problema Dopo dopo due minuti che fa Ho detto scusa non ti conviene Connederti con la chiavetta Che è un po' meglio Sì in effetti è meglio Sì 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 Perché è solo il porto del ping Che faccio cagare Eh sì esatto Ti muovi come un roboco Alla fine usando la connessione satellitare Avevo una scusa Ah invece no Adesso sei proprio una merda Basta Comunque rispetto al computer È una cosa completamente diversa Cioè io sono scarso Ma anche loro sono molto scarso Su PC non sono così scarso No esattamente Questa è una roba che noti Immediatamente Poi ovviamente la 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 Cioè non mi sento a mio agio perché Vabbè ti muovi come un robot Guarda No perché il Tibu Non so se hai visto Ma stanno facendo Però non ci sa come è un altro Stanno facendo il trailer Stanno facendo il film Voglio fare il film di Robocop Con un uomo quindi Tibu vuole preferarsi Per fare Robocop Cioè era curioso Cioè sono curioso Perché mi piace sinceramente Provare un gioco Con un'altra cosa Sì ma guarda che Non è un Robocop Cioè un Robocop È un Walle Venuto male È un Walle Che mira la cazzo Cioè proprio Sì no è vero Il fatto è che noi non abbiamo La sensibilità sul joyce Sul pneumologico di destra O al massimo O niente Sì esatto Noi spostiamo tutto Verso destra Tutto verso sinistra Non esiste Si può anche settare Solo che noi non abbiamo Naturalmente cazzo Noi vogliamo iniziare subito Però devi stare Mezz'ora a fare un giro No il fatto è che L'unica nostra possibilità È mettere la sensibilità Al minimo E pregare E poi allora Ci muoviamo come lumache Ma così non mi piace Perché non riesco a fare Quello che voglio No devi pregare Di trovare quelli scarsi Di davanti a te Boh comunque Insomma la differenza Oltre a questa Che secondo me Col computer Si riesce a muoversi Molto più velocemente Ma sei molto più preciso Vabbè Se non fosse per la mira assistita Il tibu non avrebbe fatto un'uccisione C'è la mira assistita Diciamo che questo Ti aiutare Se non ci fosse Ti aiuti Se ti avvicini Ti dà la mano Appunto Sulla mira assistita Vi ricordate Il video di GTA Nel quale proprio Si vede che miro Automaticamente Cioè lì si vede chiaramente Che la mira assistita Io pensavo Che Battlefield Fosse la stessa cosa Eh sì Allora scusami Ma che cosa stai dicendo Toglievo il mirino E mettevo il mirino Ogni due secondi Pensando Beh cazzo Perché non lo aggancia Non riuscivo a giocare Poi Tra l'altro Mi ricordo che Un ragazzo Ci ha aggiunto su Appunto Xbox Live E ci ha scritto un messaggio Dietro Attaccate le cuffie Che Vogliamo sapere Se siete voi Perché non credevano Che fossimo noi Abbiamo stati 10 minuti Per capire Dove si attaccavano le cuffie E cercavamo La presa dappertutto Ma dove cazzo È l'Xbox Gira l'Xbox Di qua di là Perché noi appunto Siamo abituati Col computer Le cuffie Le attacchiamo Al computer Non ci mettiamo Ad attaccare Al joystick Tu sei strano E quindi Non riusciamo a capire Dove cazzo Ci attaccava Questa cazzo di cuffia Noi sentivamo E alla fine L'abbiamo attaccava Al cazzo Esatto Ma tu dove l'hai attaccata Non lo so Ma noi alla fine Sentivamo Nelle cazzo Del televisore Ah sono loro Sono loro No non sono loro Trenti parlerebbero Non sono loro Sono dei fake No no ma ti dico Che sono loro E noi non parlevamo Perché non sappiamo Dove attaccare le cuffie Dopo per scrivere un messaggio Per scrivere un messaggio Tre quarti d'ora Con il joystick Vabbè Puoi dare un altro Punto sfavore Alla console Dai 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 Un altro punto sfavore Alla console E dopo tutti quanti Diranno ecco Tipo sei una merda Come ti posso dire Che la console è una merda Lo so che tutti Ci tengono a quello che hanno Nel senso che Se hanno il computer Amano il computer Se hanno la console Amano la console Però la grafica Ragazzi È una cosa Totalmente Differente Cioè noi abbiamo Davanti Abbiamo due schermi Dove giochiamo col pc E la televisione In cui giochiamo Full hd Dove giochiamo con l'xbox Abbiamo messo Il video a confronto Il video registrato Sempre con lo stesso Hd tvr Dal computer E dall'xbox Cioè ragazzi È tutta un'altra storia Forse potremmo anche Fare un video Di comparazione Sì mettendo Tipo da una parte L'xbox Da una parte il pc Sì ma dopo Ci dicono Boh ma è normale Il computer ci spende di più È normale Sì 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 È solo un paragone Niente di questo Come comodità Non è per dire Che è una merda Cioè nel senso Cioè come comodità L'xbox O playstation Che sia È molto più comodo Cioè se sei sincero È molto più comodo Se giochi in terza persona Stai lì sul divano Giochi Non devi far seduto Beh tipo a GTA Io preferisco giocarlo sul pc Sì scusate sulla console GTA console Tutta la vita Perché è un gioco a cazzo Gioca in prima persona Poi anche l'abitudine Siamo cresciuti Giocando col pc Non abbiamo mai usato console L'unica pecca Che possiamo dire di GTA Fino ad esce È che l'online Non funziona un cazzo Oh veramente È una cosa incredibile Riusciamo a fare due o tre partite E poi va esce E devi cominciare da capo Comunque questo è Battenfield ragazzi Non è Sì ma siccome fai cagare Non vogliamo continuare a dirlo Abbiamo deciso di cagare di questo Beh non ha fatto neanche tanto schifo No La realtà No A parte che giochi con quell'arma da Napoli Eh ma sapete perché uso questa arma? Perché se sbaglio colpi A meno non devo ritengare Sì che poi ha 46 Un mitraglione con 46 colpi Proprio io Io odio i mitraglioni con 96 Io odio i mitraglioni Deve averne 100 Un grande buffo 100 o di più Sì ma scusami cos'è Cosa è sempre con le caricature aumentate? Sì Che cazzo Vado in guerra? Sì ma sai quanto costi tu come soldato? Eh qua Sai quanto c'è Beh ti buco Ti buco costa il doppio Guarda Ma dai C'era quello lì Devo ucciderti due ore fa Anch'io dovevo ucciderlo Sapevo dov'era Conoscevo Anche? Eh sì Ah quindi dovevo dire merda sia a lui che a te? Guarda guarda come mi muovo Cioè Non so È veramente Guardate che fatica fa uccidere le persone Sì sta facendo una fatica pazzesca E qui E qui di grazie Di grazie Mirassistita Eh buono Grazie anche a lui Deve ringraziarla No scusa Non mi avrebbe ucciso Io Penso che senza Mirassistita Non fai una ceppa Io ho detto vabbè Cioè è molto più lento il gioco No no puoi uccidere la cosa di un canto Boh Se non ci fosse la Mirassistita Dovresti prendere E stare immobile Per sparare Ma non ce la fai lo stesso? Ho detto Ho detto a Tibu Fammi provare Fammi provare Io ho preso il joystick E ho il joypad Come cazzo si dice Ho cominciato a giocare Vado Due volte Sono morto Tre volte E poi mi sono trovato In tre persone Nel spawn Girate di schiena Mi sono messo a sparare Chiaramente vengo fuori nel radar Quando lo sparo Questo che si sono girate Ma che cazzo fa questo qui? Cioè l'unica cosa che non sparavo Era loro Gli sparava tutt'altro Sparavo all'edificio Gli ho fatto la corrice Gli ho fatto la corrice Sparava tutto Tranne che Ai nemici Questo che mi si è girato Mi hanno ucciso Io ho preso il joypad E glielo ho lanciato A Tibu Cioè vuoi dire? Il video sta finendo Quindi commentate anche voi Se avete presenso In xbox E insomma quale preferite Senza scatenare Né con una console war Esatto Non vogliamo Insulti Non insulti Né niente Perché è inutile insultarsi Se vi insultate siete idioti Ecco adesso Cosa siete degli idioti? Stronzi? È normale Fanno sicuramente così adesso Comunque Ecco Confrontatevi Dato che vi confrontate Lasciate anche un like Ecco Quello Stava per confrontare a noi Quello Esatto Perché così Abbiamo fatto un buon lavoro Per vedere quanto è scarso E Tibu Bisogna confrontarlo Cioè guardate 203-0 Cioè abbiamo Surclassato Sì Non so perché il punteggio Viene fuori così Esce fuori anche quante uccisioni hai fatto? Sì Allora aspetta Non lascia Vediamo al fine Allora ragazzi Ciao a tutti No 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 Qui adesso vediamo tutto quanto Vogliamo vedere Quante uccisioni hai fatto Tibu su console Ragazzi Sono in positivo Sono in positivo Sei sicuro? Sì 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 Sono in positivo Vediamo Sesto E sei primo? Quarto 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 Unici decisioni Unici sette Bravo Tibu Bravo Che merda Pensavo che avessi fatto più schifo Non pensavo che avessi fatto più schifo Vabbè ragazzi Ciao a tutti E al prossimo video Ciao 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 a tutti Ciao a tutti